Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi avremo una brevissima scrittura, siamo sempre al capitolo 6 del Vangelo secondo Marco, però leggeremo solo dal versetto 45 al versetto 52. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a procederlo sull'altra riva, verso Bezaida. Mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. E fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo, a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare. E voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse, Coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. Ed essi erano profondamente stupiti in se stessi e si meravigliarono, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. L'Apostolo Giovanni afferma che Gesù era molto vicino a essere proclamato re dal popolo che aveva nutrito e guarito. Tuttavia egli ha orientato la volontà del padre, quindi manda i discepoli a casa a Bethsaida e congeda l'immensa folla, che di per sé non è una cosa facile, e va in un luogo isolato per fare che cosa? Per pregare. Una lunga e faticosa giornata non lo allontana dalla preghiera, ma lo spinge a pregare. E' questa anche la tua e la mia attitudine? Quando sono esausto io ho voglia di ricaricarmi con qualcosa di rilassante, come guardare la televisione o fare anche una pennega, un pisolino, ma non con la preghiera. Hai notato che pur essendo nel cuore della notte, la quarta veglia è tra le tre e le sei del mattino, Gesù vede i discepoli faticare? Perché stanno lottando? Beh, hanno il vento contrario e non si sono mossi un granché. E seguire Gesù non sarà sempre facile, a volte sarà piuttosto difficile perché egli mette alla prova la nostra resistenza, la nostra fiducia e la nostra fede. E Dio potrebbe persino portarti in mezzo a una tempesta. E quando segui Gesù ci saranno persone che ti maltretteranno a casa del tuo impegno verso di Lui. Ma anche nel mezzo delle tenebre, gli occhi di Dio ti vedono. Non sarai mai fuori della sua vista. Una cosa che ho trovato peculiare è che Gesù aveva intenzione di passare oltre loro. Che cosa significa? Beh, nessuno lo sa, onestamente, poiché i commentari su questo evento sono piuttosto diversi. Quello che ho trovato però più rilevante è che, in greco e quindi per i lettori originali, l'espressione è piena di significato. Al monte Sinai il Signore passò oltre quando si rivelò a Mosè. Al monte Oreb il Signore mostrò nuovamente la sua presenza a Elia, mentre passava oltre. Quindi vediamo che quando Dio passava oltre, vuol dire che Dio si stava rivelando a loro poiché non potevano contenerlo faccia a faccia. Qui Gesù stava progettando di passare oltre per rivelare qualcosa di sé. È forse per questo che Marco dice che Gesù stava per rivelarsi a loro come l'Io sono, in carne ed ossa. Tuttavia gli Apostoli non lo riconobbero. erano già sopraffatti dalla fatica e vedere una figura camminare verso di loro sull'acqua in piena notte li spaventò ancora di più. E quando Gesù dice loro di prendere coraggio, sta dicendo a loro, ma anche a te, anche a me, di dipendere da Lui come fonte della nostra fiducia, anche nel mezzo di circostanze impossibili. Perché? Perché Egli è con noi e non ci abbandonerà, anche se a volte potremo sentirci soli in mezzo all'acqua. Riflessione Ti senti come se fossi in mezzo al mare rimando contro vento? Ricorda che Dio è sempre con te. Non sarai mai fuori della sua portata. Signore, fai sì che il cuore di ognuno di noi non venga mai a indurirsi nei tuoi confronti. Amen Carissimi, quest'oggi ci siamo sbrigata velocemente e ci risentiamo domani, Dio volendo. Buona giornata a tutti. Ciao